Assessore Cuzzi, si avvicina il grande appuntamento con il concertone del 1 maggio. Quali sono le novità di quest'anno e soprattutto gli eventi che potranno seguire i pescaresi nella giornata della festa del lavoro? Sarà una grande festa che evidenzierà le tematiche del lavoro, ma poi sarà un grande momento di trattenimento su Piazza Salotto a partire dalle 17 con delle band, le migliori band abruzzesi e locali, e poi alle 21 il grande concerto di Giuliano Palma che durerà per tutta la serata. Dobbiamo ringraziare tutti gli sponsor che in questo momento stiamo definendo, che consentiranno l'intera copertura economica del concerto del 1 maggio, tutte le sensibilità che hanno voglia di investire per far sì che la funzione attrattiva della città e turistica venga rilanciata. Pescara riattiva una grande tradizione e per un giorno, ma poi anche per tutta l'estate, tornerà ad essere la capitale del medio adriatico e questo è importante per riattivare tutta una serie di funzioni vitali per la nostra città. Col 1 maggio si apre in un certo senso l'estate, state già pensando alle manifestazioni per la stagione estiva? Sì, le abbiamo definite, sarà veramente un 2015 ricco di eventi, si parte con il 1 maggio, la settimana successiva sempre su Piazza Salotto avremo un altro evento concertistico e turistico di rilevanza nazionale, poi ci sarà l'Iron Man, ci sarà la Notte Bianca della Riviera, la prima Notte Bianca il 18 luglio, la Notte Bianca dello Shopping, in mezzo più di 100 eventi che si concluderanno alla fine con i giochi del Mediterraneo sulla spiaggia dal 28 agosto al 6 settembre.